Consigliere Pettinari, ci sono persone in questo quartiere che sono state minacciate, voi oggi denunciate quello che è accaduto? Sì, intanto abbiamo un problema di aggressioni, minacce gravissime nei confronti di 3-4 donne, coraggio, di questo quartiere, da parte di un soggetto pericolosissimo. Ad alcune sono state aggredite con un coltello alla gola, altre sono state, delle persone sono entrate a questo soggetto sempre col coltello dentro casa, un'altra donna è stata mandata in ospedale, aggredita, quindi io dico la prima cosa, appello forte al sindaco, al prefetto, allontanare quel cittadino incivile e violento che sta rendendo invivibile questo quartiere pericolosissimo, con un provvedimento motivato di sicurezza e ordine pubblico. Poi qui ci sono ancora spacciatori di droga, occupanti abusivi, coloro che rubano la corrente elettrica, che si allacciano abusivamente anche all'acqua, coloro che addirittura qui ci sono 25 appartamenti vuoti, murati, tutti questi che stanno dietro a me, sono vuoti, murati, non assegnati a fronte delle 700 persone in graduatoria che meriterebbero un alloggio popolare. Qui devono essere subito assegnati questi appartamenti per ristabilire, e poi mi lasci dire, una nota positiva a seguito delle mie denunce, è stato emesso un provvedimento di decadenza nei confronti di un latitante che è ancora nella disponibilità di un alloggio, però non è stato ancora eseguito, quindi chiedo di fare lo sforzo in più. Il provvedimento c'è, adesso eseguiamo quel provvedimento e riprendiamoci la casa dalla titante, perché non è più possibile, questa cosa gridava vendetta.